D&D 5.5, 6.0, tutta roba vecchia! Nel 2024 ci sarà solo One D&D che non sarà una nuova edizione del gioco ma qualcosa di più dove verranno fusi elementi fisici e digitali grazie alla piattaforma di D&D Beyond che permetterà di tenere sempre a portata di mano tutto ciò che serve per giocare Infine, D&D Digital, la piattaforma tabletop ufficiale elaborata su Unreal Engine 5 che esteticamente, come potete vedere, è già molto promettente Sarà un'esperienza del tutto nuova con diorami e personaggi e, a detta loro, completamente personalizzabili speriamoci sia un editor C'è tanto altro in arrivo nel mondo di Dungeons & Dragons razze, classi, un sacco di novità ma di questo ne parleremo in un prossimo video Intanto scatenatevi nei commenti e fateci sapere tutto quello che pensate su tutte queste belle cose